buongiorno crew ben ritrovati su wg crew come va io sono appena arrivato l'allenamento sono già distrutto allora oggi come potete leggere al titolo facciamo il dlc di castelvania allora ammetto che l'ho già provato perché non vedevo loro li ho presi tutti quindi prima o poi ce li facciamo tutti con calma allora vi mostro una cosa che non dobbiamo sbloccare nulla ma è veloce come il vento perché è veramente una figata allora andiamo di questo qua questo me faccio niente questo metodo ha praticamente acquistando il dlc quando arrivate qui ci sarà una tempesta di pipistrelli e ovviamente ci sarà il messaggio qualcosa è cambiato oh mi piace quando mi danno i soldoni ho bloccato anche un po di progetti visto che c'ero perché ce n'era bisogno e prima o poi andiamo a farci quella merda di laboratorio vedete ciò vi mostro come arrivare all'astra e all'astra al castello di castelvania allora in teoria per di qua no adesso non comporta nulla questo lo vendiamo a ci possiamo prendere la sfera e vedere se ci rilasciano qualcosa qui mostri la allora ok abbiamo già trovato le pergamene che dobbiamo trovare sfera che la c'è soltanto il forziere molto molto buono quello e arriveremo a un certo punto che ammazziamo tutti quanti solo con quello adesso non fa un cazzo purtroppo è una volta che andavo prima ai sentieri dei condannati ok le padelle non ciaco bellissime a quello che ho messo come potere è abbastanza cool perché dice che quando sei modalità veloce e quando hai un bonus di velocità ovviamente il 50 per cento dei danni e fidatevi che è una gran figata soprattutto perché c'è una mutazione che dice velocità aumenta tre volte i bonus di velocità e dopo me correte come dei pazzi ed è tanta roba oh qua c'è vedi già il nostro amico posto di questa e finché ho la freccia su ho anche il bonus di velocità e in più questa tipologia di bonus ci dice che 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 la velocità dura due volte di più allora questo è il passaggio per il castello quando sarete qua ci sarà alucard che vi dirà mio padre si è di nuovo svegliato bisogna assolutamente fermarlo il dilecci è diviso in due c'è la prima parte che si può fare soltanto andando dalle prigioni una volta riuscito a fare la prima parte si sblocca la seconda parte dove vi darà una stanza in più dopo aver combattuto contro la guardiana la guardiana del tempo che sbloccherà di nuovo uno dei busto quindi adesso noi andiamo all'intorno del castello dopo ci sarà il castello di Dracula che ci porterà il necropoli profanata a combattere il primo boss fatto il primo boss si sblocca dopo la stanza dell'oroggio di nuovo come potete vedere il castello di Dracula che sarà molto più difficile ci sarà un suo mini boss all'interno fino ad arrivare al torrione del signore dove ci sarà la boss fight finale quindi adesso da qua noi prendiamo brucia a pelo comunque mi sto trovando molto bene con arco e quant'altro soprattutto perché mi ho sbloccati diversi mi sono già preparato svariati archi forti qui ragazzi poi c'è una colonna sonora fotonica troppo bello allora come funziona qua la prima volta che voi arrivate qui ci sarà questo ponte che sarà sollevato voi dovete scendere per quella corda adesso io non posso più andarci purtroppo praticamente vi porterà lì sopra dove ci sarà la leva e potrete finalmente sblocchi ah non c'è neanche più la porta quindi neanche volendo ve lo posso far vedere oh vedi lui diventa così riprendo questo troppi ps ancora ora si invece uh ah la cosa benedita vuoi fare vuoi fare ok cioè considerare che io sono arrivato qua il coltellino da lancio li ammazzavo con un colpo talmente era OP mentre adesso purtroppo non li uccido con un colpo è molto figo vabbè ve lo faccio vedere dopo momento vi mostro questa prima zona sono i dintorni del castello non stiamo giocando con le cellule boss perché altrimenti mi sarei scartavettato i maroni allora se non sbaglio questo è l'unico dungeon che più o meno rimane uguale cioè cambia qualcosa si ma alla fine devi fare sempre le stesse cose quindi qua noi andiamo qua apriamo qui andiamo prima a destra vi conviene l'obiettivo è salire quindi oh vado a prendermi e mi sa che non arriviamo alle 60 kill ragazzi oh quello è un mercante che ci da queste cose qua no io voglio prima un arco decente quindi andiamo avanti il pugnalino che ha semplicemente munizioni in più mmm mmm ok e qua faccia da salire ancora un po' e si ripete ah vi conviene sempre avere un'arma che mira in automatico i mostri perché è troppo utile non dover pensare ah fa ciò come cazzo ammazzo quello di poi di là no voi semplicemente andate lì siete vicino sparate e lo uccidete un altro consiglio mi raccomando per chi ha le prime armi puntate a una statistica e basta perché sennò non fate un cazzo di danno ve lo dico perché all'inizio io facevo così e poi una volta che sblocchi le prime cellule boss ti accorgi che non fai più danno oh allora allora che pareva che pareva non ci credo che scherzo ragazzi il primo giro di armi è andato non male di più vabbè proseguiamo al momento con i meteoriti ok abbiamo aperto qua ok siamo tornati a 30 quindi qua potete portare su questo ma andare di qua non serve per diventa un cazzo se non per la storia dice che sarà un tipo attaccato da un insetto gigante e vi conviene andare qui sopra e vi danno 13 cellule che siate senza senza che siete senza cellule boss o con cellule boss ok abbiamo aperto la porta si che era di qua grazie questi dovete stare attenti perché oltre a non poterli superare ok alcune vi fanno cadere vedete che non posso andare là però ma questo no ma neanche questo ma questo qui come potete vedere non si va vabbè alcuni vi fanno cadere quindi stateci molto attenti ed è ancora mi ha fatto cadere ok c'è un cazzo che è anche un po' svelocicoso a quanto pare no possiamo andare dritto poi io inizio a avere sta sfiga incredibile che non trovo mai nulla interessante allora qui quando arrivate la fontana non fa fuoriuscire del sangue ma lo attiverete voi in qualche modo già ci parlate e dice oh poi tipo vai via che si fa? mi lancia i sassi ok 55 56 questo è in un punto di merda ok l'abbiamo ce l'ha fatta ne manca una uccisione cerchiamo di arrivarci senza farci ammazzare perfetto 60 kill e l'abbiamo fatta un po' di fuocherelli qui questa stronza vuole morire o oppure no vedete che siamo alla fine ah si hanno dimenticato i due nemici addirittura vabbè non è un problema fatto ciò possiamo proseguire per il castello come potete vedere essendo ai primi livelli è abbastanza facile oh adoro questo ragazzi quest'arma qua per chi gioca tattico con come chi gioca come me quindi archi a distanza io giochi da vicino eh ma sto sbloccando un po' i costumi così ho sbloccato tutte le mutazioni che avevo ho trovato questo scudo sanguinoletto la punizione l'ho presa dall'attore dell'orologio ho messo l'arco della fanteria dalla faretra infinita a uno così quando ci serve lo sblocchiamo facile un sacco di archi come potete vedere ammazza vampiri l'altro lo sblocchiamo qui nel castello ah ecco cosa l'ho trovato infine c'è un colpo che se il calcio interrompe un attacco figlio molto bello la spalla di allucard è tanta roba che è annessa lo scudo poi c'è la falce della morte ragazzi che è questa qua poi ci facciamo la classe verde e andiamo di quello poi basta se non sbaglio ah il turbi di pistelli tanto per che lo voglio provare ma lo proveremo quando abbiamo le 5 cellule boss allora cosa faccio mettiamo velocità quindi l'allora del bonus velocità dopo una serie di uccisioni aumenta di 3 volte e con quello che abbiamo per 2 quindi mamma mia tanta roba in presente un bonus di velocità subisci il 50% di danni in meno infligge il 100% di danni in più mamma mia signori non so se potenziarli no non li potenzio perché spero di trovare un'arma più forte ecco ok ok allora questo è il castello di Dracula c'è sempre questo vi consiglio di ammazzare immediatamente vedete che non facciamo un pezzo di male ok l'abbiamo ammazzata così oh finalmente anche la prima pergamena è presa su c'è un baule ok così ci andiamo a prendere un attimo ah di solito io vi consiglio fate prima la parte bassa perché boh è più comoda secondo me ok ok e qua vediamo un bel baulozzo oh le schegge di ghiaccio che però possiamo provarle questo scudo fa cacare torniamo giù ovviamente giù c'è una pergamena inutile almeno rallento anche i nemici molto bene ci prendiamo questa allora mi sa che ci conviene fare un coltellino no un coltellino da lancio un kunai voglio dire e poi le frecce di ghiaccio ok uh doppia balestra automatica che sicuramente è meglio di qui quando si distruggi ricopre l'olio che brucia attorno a te questo genera una roba tossica dai intanto partiamo così che comunque avere armi potenti ok ok siamo a 30 qua non c'è nient'altro allora allora all'inizio questo è veramente facile eh ragazzi ve lo dico perchè uff momenti comunque vi consiglio se usate le armi tattiche la torretta pesante perchè dice che se attaccate da quando siete vicino a lei fate uh come l'ho schirato più 15% di danno poi se usate il bonus aiuto fate tipo 45 50% di danno poi c'è questo dado che non serve a nulla e nella seconda fase non l'ho trovato quindi non lo so proseguiamo per la strada ok ok eeeh volevi fottermi dovrebbe essere ah no oh la andiamo a chiudere il giro così abbiamo finito ah ci abbiamo ottimi invisibilità il primo attacco 150% i danni in più ok ora possiamo tornare su dire si 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 ok andiamo appena di qua ok quelli ce li ammazziamo così ma non ci sono nemici ok poi vi conviene fare la parte destra comunque come sto facendo io perché il vostro obiettivo in realtà è andare poi in alto subito a sinistra quindi se non volete poi eeeh vedete troppo tempo vedete il nostro obiettivo è andare lì sopra evidentemente voi andate subito adesso salite subito e il gioco è fatto mentre se siete abbastanza cazzute riuscite a andare avanti vi conviene stossetto maledetto vabbè anche il nostro obiettivo di 60 uccisioni l'abbiamo già fatto meno male anche perché me l'ho proprio perso questi sono uguali a quelli che trovate nel castello alto picco vabbè quella la ammazziamo dopo capito ah qua c'era la porta no? vabbè prima di qua minchiavo volevo un arco subito e invece ho dovuto aspettare la fine e neanche l'arco mi dà no vabbè raga come facciamo? sei nella merda che schifo ragazzi qua su c'è sempre un'arma o comunque un oggetto mando non so se vinciamo c'è penso di sì ma ho un'arma abbastanza merdosa ho rompito da Simon ah mi sa che potenzio questo 612 eh sì come ultimo bonus mettiamo aiuto così praticamente abbiamo siamo vicini 37 più 39 e basta il bonus velocità non penso duri fino alla più il 15 quindi normalmente il doppio del danno quasi è poi arrivate qua e poco prima di entrare nella sala di Dracula venite afferrati da un po' po' che di meno la morte dai a cazzo devo farlo senza subire danno ma ovviamente ho queste cose qui non so come schivarle allora in realtà è difficile ovviamente con una strategia gli si fanno un sacco di danni e quindi lo si ammazza anche prima oh quello che ci da completo da morte ecco lì che inizia a darci tutti i cazzi di costume queste armi non ci piacciono quindi andiamo avanti niente 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 vediamo poi ce la farò comunque c'è un bug che non mi ha ancora dato il trofeo del torniage no non ne so come si chiama e della mano del re senza subire danni ce li ho fatti tutti e due ragazzi senza subire danni e nonostante ciò non mi ha dato il trofeo oh per farci il viaggio normale questa è la prima parte se non sbaglio non si può andare nella seconda parte nella stessa run adesso vediamo per sicurezza ma il gioco se non sbaglio dice proprio quello ho delle armi grazie a sto punto questo non fa critica quello è il problema dai oh l'arco rapido già mi piace di più questo se lo butto i meteoriti li preferisco anche perchè almeno seguono il nemico eh quelli sono l'unico problema dell'arco si parano un botto e non riuscite a a fargli danno quindi dovete eh optare per un'altra soluzione cioè andate da dietro e riuscite a ucciderlo però dovete stare molto attenti allora io brucio a pelo quindi mi conviene stare vicino uff 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 mo quella merdina mi faceva anche il danno per fortuna è morto prima penso ma se mi dava il sasso c'è il cazzo si dice un arco ecco qua non so se lo sapete ma praticamente c'è un passaggio ulteriore ma purtroppo vi serve la runa del ragno se no non potete andarci allora qua ci sono i mercanti quelli no non ci credo esplodono dopo un tot ste cagate ma dai oh ma porca che schifo vedete questo è un cazzo di arco però che sto schifo vaffanculo ma dai che sfiga ma porca vedete 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 perché vi dico ormai una volta 60 kg si fanno a fare potere e questo è buono perché lo va a seguire quindi voi lanciate la freccia segue il nemico e segue poi questo arco qui è molto forte perché se voi giocate con bruciapelo e attaccate da vicino fate critico un po' meno contro i boss e se non state vicino ai boss vi spaccano erca pranzi ma ah quindi non è inutile questa fa ancora andarci ok quindi dicevo dove mai io mi perdo perché alla fine mi concentro qua arco a panteria avete tutto il brucio a pelo se attaccate da vicino vi fa ma allora il colpo critico è capite che sono ingenti danni nonostante ciò se andate a cinquanta allora per capire se voi avete le due chiavi le due chiavi non ho bisogno di un'altra chiave ragazzi anzi le due chiavi vi basterà fare così così e andare qua qua ci sarà un progetto di uno scudo ve lo accarrate agguantate accapparrate ecco mi arriva a soccarmi e vi sbloccare quello il problema è che ogni volta c'è dopo non ci sarà più un cazzo quindi ciccio ma allora la starcafanteria mh 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 colpi è sempre la bestia qua mentre tipo solitamente quando si sbloccano le varie porte così eccola tu trovi anche ripassando per di là trovi porca la trovi ecco la trovi qualche arma nuova cioè qualche arma che comunque ti aiuta nella lotta poi qua se non lo sapete ci sono quattro campane facendole suonare dal più bassa alla più alta il suono vi tropperà la chiave del campanile dove anche lì sbloccherete un scudo e in questo gioco mi piace molto i scudi vediamo giusto perché mi piace perdere tempo quindi per fare oh vedete un attimo mi ha dato questa molto schifo poi e sei in più e sette in più qui in realtà basta colpirli e non fanno più nulla se ne ce li ammazziamo così io vi consiglio anche di buono buono molto buono si 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 ci sono i meteoriti più grossi qua quasi quasi io ce li potenziamo devo giusto trovare la seconda arma che io penso sono i missili magici i missili magici sono la manna quindi mi conviene cercare soltanto qua ecco ho letto i missili magici perché inseguono proprio il nemico anche se non tolgono chissà quanto ho sperato strada ma nooo ma che cazzo ha fatto sto coglione nooo porco due inizia a far così ragazzi mi sale il cristo allora io potenzierei i nostri amici missilozzi ecco qua buono buono per agli soldi torniamo qua adesso andiamo a farci se ce la fai cristo ok prima a destra se non sbaglio ah che fallo ragazzi potevamo arrivare a 60 kill facilmente e invece siamo dovuto siamo dovuti a farci colpire da questi nemici non c'è via di scampo si fa cacare perlomeno mi rende invisibile il primo attacco faccio faccio 150 danni in più in più 50 per no 100 per cento i danni con la velocità ce la puoi fare cazzo merda ma che problemi ho merda ma che problemi ho inutile il primo seer rimarrà niente ragazzi la velocità alcune volte non è un atto buono almeno ci facciamo di pergamozze neanche un baule malvato ehi la come andavo a schiantare punto ma che cosa ho fatto ma perchè ok e abbiamo finito 5 15 5 mmm in realtà siamo super forti ok oh lei lei noi non abbiamo né a genere una nuve tossica e le vittime bruciano quando muoiono quindi un petto a morte molto bello ho visto che c'è bene è una DLC allora 50% di danni sembra tutta la vita bersagliare sta bruciando bersagliare sta zunno va bene ci accontentiamo di 40% di danni in più allora allora mmm mmm così si ammazza vedete senza senza subire un danno signori non è neanche il tempo di trasformarsi ah c'è la besta ripetizione che se come questa non sarà male contro il boss di nave 2006 non lo so allora vediamo un po' ah no vedete per forza il castello alto picco mi ricordo che quando abbattete un boss senza subire danno vi da un'arma leggendaria peccato che non mi serva ma boh andiamo castello alto picco dai che veloce mi sa vedete va dai qua chiave coronata per andare non so dove penso nel DLC DLC devo sbloccare tutti ragazzi leggi cioè con bravi tutti allora cerchiamo di fare abbastanza veloce posso dire che 26 minuti non è male non è affatto oh avendo trovato questo grande uno due e tre comunque voglio provare ragazzi con le armi di sopravvivenza le verbi secondo me possiamo fare un bel po' di male cinquecento uno e cento quindici quelli ma al momento ah vabbè possiamo vedere vediamo se ah dovevo andare a prendere mamma mia ragazza vabbè olio bollente eh ma non brucia però però toglie parecchio e basta pensavo non ci fossero mostri eeeh ok almeno con l'arco quelli lì madonna ok andiamo con canna che voglio fare le mie sessanta kill allora andiamo prima di qua ok dobbiamo andare su oh bello essere invisibile ok questi come potete vedere si ammazzano molto facilmente facciamo così no ok fa fretta di andare vedete e qua ci porta eeeh allora ok ok molto molto bene voglio comunque fare il doppio del danno è tanta roba eh un'altra cassa sfiga però che neanche una cassa maledetta allora allora quindi là mi manca soltanto quello boh ah quanto cazzo c'è un forziere nel vuoto un po' una tristezza vabbè diciamo così altrimenti qua ci perdiamo un'eternità perchè pergamene pergamene e soldi stavamo per oggi bene ho fatto eeeh vediamo possiamo andarci in questo momento ok c'è ancora questo in questa maniera in questa maniera i nostri chat che mangia come dei pazzi in questa maniera ah subisce nemmeno danno avete capito ragazzi ok perfetto ci manca la gioccarola ci arriveremo penso ecco andando per di qua qui passa Gino ah anche la c'è un meteor na 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 uh che hanno fuori una stella da verso tutti i nemici eh ho meno danni avete il bonus velocità quanto due ragazzi ok abbiamo fatto le nostre 60 kill questi partono in quinto che cazzo vaio ok qua ci mancano i due piccoletti ok li ammazziamo weeeh eeeh volevi a coltellarmi da dietro ok ci manca solo a parte bellissimo ragazzi bellissimo uh vediamo se ci da un arco un po' più sgravato i meteoriti già ce li ho l'8 se non sbaglio niente un kate un kate perchè da che il coltello arancio sia a livello 2 quello la qua noi praticamente noi praticamente uccidevamo tutti quanti allora l'abbiamo visto tutto l'abbiamo visto tutto l'abbiamo visto tutto ci manca di qua l'abbiamo visto qua l'abbiamo visto sopra aaaah e niente abbiamo finito la adesso così uno due tre schifo mamma mia che schifo ragazzi soldi tanto per beh in realtà no possiamo puntare a qualcosetta in più tipo vedi la bobina 866 quello fa 1300 e niente il nome tossico ci serve ragazzi ci serve il veleno compreso da Maria Reina no che cazzo fai ma io forse non posso fare la pietra allora proviamo che schifo che schifo che schifo c'è lo strano rumore che schifo che schifo questo e questo vado qua neanche un danno nel castello alto picco incredibile poi dicevo i danni da vaffanculo chissà cosa allora mettiamoli al centro il problema di livello facile è questo ma dai cazzo ma cosa ha fatto ma raga non ci provo nemmeno più a fare eh Dio boh le pallonate è andata una bella botta è andata fin è andata perché le pallonate tu premi e spara 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 quindi molto molto po' ragazzi la prima fase è stata fatta ora puntiamo alla seconda fase però il problema è che non ho molto tempo quindi direi che questa è la prima parte del DLC di Castlevania grazie per avermi seguito e alla prossima live